Ci resta seduta a prova, ci si alza, non a prova, ci resta seduta il consigliere di polizio. Allora c'è l'attenzione del Partito Democratico, attenzione, attenzione del consigliere di polizia, vai! Allora, allora ci sono altri luci, il consigliere, la sceltaia, il Giorgione De Freire, Massimo Irodice, Balsamo a Marigliano, Laeta e Fuccio. 8 attenuti. 22 presenti. Il piano passa con 14 civili, favorevoli e 8 attenuti. Passiamo a un bel giocato, a un ordine del gioco, elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale. Allora, comunico al Consiglio che in data 10 gennaio 2016, con nota al protocollo numero 1283, indirizzata al Presidente del Consiglio, ci sono state le dimissioni da pagari da vicepresidente del Consigliere Comunale Nello Cervone. In fatto, la notte così recita, il sottoscritto Cervone Amigo, Consigliere Comunale, per valutare una nuova organizzazione delle cariche persone, come apprendente rassegna le proprie dimissioni da vicepresidente del Consiglio Comunale. Vi informo che, alla luce delle dimissioni e set letter, che a notte dell'articolo 3,12, vigente del Statuto Comunale, ci dovrà essere l'elezione del vicepresidente che avviede, con le stesse modalità previste, l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. specifico che il vicepresidente del Consiglio è scelto tra i consiglieri di ignoranza ed è eletto al scordino silenio e con voto diretto a maggioranza assoluta di due terzi dei consiglieri assegnati. dzięki a tutti i consiglieri di ignoranza sul passato, che ha immaginato fatto a maggioranza di un proposito curato, che ha ammato una nuova organizzazione delle cariche persone, che può fare, che ha un'esplosione di un'esplosione mondiale per le dà cariche di un'esplosione delle cariche di un'esplosione il buglio è un'esplosione, di un'esplosione del cittadale, che può fare, che è un'esplosione di un'esplosione che staggia per la nazione, ci sono stati che non sono stati, ma delle cariche, per la nazione, ci sono stati, ma delle cariche, Allora, noi ci siamo qui, a lui mi ha detto voce ha detto come sei Don Massimo, a lui. Ma Linda, ha detto lui. Ma allora è detto lui. Ma guarda che è venuto. Allora, ora mi chiede per l'intervenir con signore Monti.